Questo Ceci Weekly è ispirato da una domanda che mi è stata chiesta più di una volta negli ultimi tempi, in gusti e salse sempre un po' diverse, da come mi mantengo concentrata durante la giornata, a come gestisco gli imprevisti che puntualmente arrivano, a cosa faccio quando esco dai binari della mia tabella di marcia e simili. Come sempre la risposta è più semplice di quanto possa sembrare e si fonda su una importantissima premessa di fondo, e cioè che non esiste tabella di marcia che non sia costantemente pizzicata da imprevisti, interruzioni e anche quel pizzico di nerze e pigrizia che ogni tanto ci prende facendoci vegetare sul divano come carote bollite. Quindi, se cerchi un piano perfetto, buona fortuna, perché di sicuro non è questo. Messo in chiaro che qui siamo tutti work in progress, questi sono tre step che personalmente seguo per pianificare la mia giornata con successo, a parte quando non ne ho nessuna voglia e la carota bollita prende il sopravvento. Sigla! Step numero uno, scelgo i miei strumenti. Ora, gli strumenti per gestire il proprio tempo si sprecano. Abbiamo app, tools di time management super super sofisticati e poi abbiamo strumenti semplici e altrettanto efficaci. Personalmente ne uso soltanto due e sono davvero semplici. Uno è I done this per una panoramica delle cose da fare durante la giornata e poi c'è Google Calendar, il secondo, dove programmo gli archi temporali più precisi in cui farò una certa cosa. I done this è un tool gratuito di cui troverai il link qui sotto al video ed è estremamente semplice, forse anche troppo, ma l'ho scelto soprattutto per questo. Non ha troppe funzioni che alla fin fine invece di semplificarmi la giornata finiscono puntualmente per complicarmela ancora di più e per farmi sprecare molto più tempo prezioso. Di sicuro, e qui ci metto la mano sul fuoco, esistono strumenti più interessanti e sofisticati là fuori, ma non fanno per me. Lo step numero due, creo un piano giornaliero solitamente suddiviso nelle seguenti parti. Primo, tre blocchi di tempo ininterrotti da distribuire nell'arco di tutta la giornata, dedicati ai miei progetti più importanti, per quella settimana naturalmente. Ora, potrebbe anche trattarsi di un solo progetto particolarmente impegnativo e dove ogni arco temporale ininterrotto è dedicato ad una sua singola parte. Essere realistici quando definiamo questi blocchi di tempo ininterrotto e quello che ci possiamo fare dentro è fondamentale per evitare poi di scoraggiarci pensando che non siamo all'altezza del compito che ci siamo prefissati. E visto che tendiamo sempre a sopravvalutare quello che possiamo fare in una settimana e a sottovalutare alla grande quello che invece possiamo fare in un mese. È bene ricordare che non ha alcuna importanza se la distanza che percorriamo in ogni singolo giorno ci sembra piccola e insignificante. L'importante è sempre procedere con costanza. Poi c'è il tempo per meeting, chiamate, comunicazioni, appuntamenti. La mia regola è quella di non avere mai, se non causa imprevisti, più di due appuntamenti al giorno, possibilmente abbastanza ravvicinati così da non rischiare di interrompere i miei preziosissimi blocchi di tempo ininterrotto, i miei momenti di concentrazione. E infine c'è il tempo per me stessa, che sia per fare yoga, per uscire a fare una corsa, una camminata o per incontrare gli amici. Questo tempo è sacro e sempre presente nel mio piano giornaliero. Assicurati di metterlo in calendario come se fosse un appuntamento dal dentista perché se non c'è finisce per non esistere. Il tempo per te non è opzionale, è necessario per mantenerti produttivo oltre che per ricordare che non stai vivendo per lavorare, ma stai lavorando per vivere. Siamo arrivati allo step numero 3. Programmo gli archi di tempo dedicati a ciascuna attività in calendario. Per farlo invece che chiedermi quanto tempo qualcosa richiederà e poi definire il blocco di tempo nel mio Google Calendar, provo a fare il contrario e a chiedermi quanto tempo io voglio investirci. Questo piccolo cambio di prospettiva aiuta a mantenermi molto più efficiente, a fare di più e meno tempo e a restare più focalizzata solo sulle mie priorità. Ora quando segui questo processo lascia sempre un po' di buffer time, quindi di tempo cuscinetto per eventuali imprevisti perché ci saranno sicuramente e di varie entità in natura a seconda della giornata. Quindi tanto vale fare pace con l'idea e creare loro un po' di spazio premeditato. La chiave per una giornata di successo in fondo è essere preparati e flessibili allo stesso tempo. Le circostanze possono cambiare quello che è importante. In parole semplici quello che poteva sembrare importantissimo la settimana scorsa, potrebbe esserlo ancora oggi oppure no. Mantieni un approccio aperto al cambiamento e il cambiamento non sarà più un problema. Come sempre la parte più bella del video comincia ora qui sotto. Fammi sapere nello spazio dedicato ai commenti quale approccio segui per mantenerti focalizzato durante la tua giornata. Condividilo nei commenti qui sotto, mi raccomando non essere timido perché lo sai, te lo dico sempre e lo dico sempre a me stessa, il modo migliore per crescere è farlo insieme. Ti aspetto qui sotto, non essere timido. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia-sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce.